Nel piccolo centro di Alagna Lomellina la biblioteca è ormai stata simpaticamente invasa da bambini e ragazzi. Gli adulti hanno accettato ben volentieri di fare posto e le due sale sono state riallestite proprio per permettere spazi di letture e laboratori pensati per i più piccoli. Si tratta dell'utenza quasi esclusiva della biblioteca civica di Alagna, che essendo una piccola realtà vede frequentare la biblioteca soprattutto dagli alunni delle locali scuole elementari e in parte anche dai piccoli della scuola dell'infanzia. L'impegno del comune e un fondo statale per l'acquisto di libri hanno permesso di migliorare lo spazio al piano superiore di quello che non a caso è stato battezzato come il palanzo dei ragazzi. Si tratta più che altro di un riallestimento di uno spazio che precedentemente era dedicato alle letture anche per adulti che invece oggi è specifico per ragazzi e bambini. Oltre a questo spazio riallestito grazie a un bando regionale abbiamo ricavato una nuova sala per le prime letture negli spazi che precedentemente erano occupati dalla sede dell'associazione Proloquo. Alagna meno di mille abitanti non ha le possibilità di bilancio per tenere in organico un bibliotecario le attività sono affidate a volontari che hanno anche il compito di gestire l'animazione per i piccoli frequentatori. Ci tengo a ringraziare ovviamente il sistema bibliotecario della Lomellina di cui facciamo parte la presidente della biblioteca civica di Alagna Morena Barison ma soprattutto la nostra insostituibile Valeria Bianchi che è la volontaria che il sabato mattina tiene aperta la biblioteca ed è bravissima anche nel coinvolgere i bambini e instradarli alla lettura.